E' tutto pronto per la prima edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello? Sì, è tutto pronto. Sabato alle ore 19, 27 agosto, al Belvedere di Realmonte, ci sarà la prima edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Quindi mi auguro che verranno in molte perché ci sono molte personalità. Un evento organizzato nei minimi dettagli? Sì, già siamo pronti, tutto è pronto per la serata della prima edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Quest'anno l'associazione ha ricevuto varie tematiche, vari libri e una commissione autorevole ha scelto di scegliere cinque autori. Durante la serata verranno anche consegnati dei premi speciali alla carriera, su tema spettacolo, fotografia. C'è una novità che ho sentito dal presidente dell'associazione, che abbiamo ascoltato poc'anzi, in cui estenderà il premio il prossimo anno a due nuove sezioni. Una di manoscritti inediti, quindi autori sconosciuti o emergenti, che l'associazione stesso provvederà a pubblicare il romanzo del vincitore. Una seconda sezione è quella dedicata alle poesie, quindi autori vari, poeti e quant'altro, che verranno scelti e quelli scelti verranno pubblicati a carico ovviamente dell'associazione, a cura dell'associazione, in un'unica raccolta. Possiamo dire che il premio letterario è stato lanciato quest'anno per auspicio di promuovere non solo la cultura e l'amore per la lettura, ma anche per le bellezze architettoniche e conosciute di Real Monte, come la Scala dei Turchi, Villa Romana, le bellezze del panorama che possono essere colte dal faro, Lido quindi Rossello. Inoltre, devo a questo punto ringraziare perché il progetto, l'iniziativa del nostro presidente, dell'associazione culturale Casa del Libro Pascal Schrembi-Real Monte, ci sono state molte adesioni di enti, associazioni varie, ma in particolare ringrazio il sindaco del comune di Real Monte, l'avvocato Santina Lattuca, il presidente del consiglio, il geometra Felice Vaccaro e l'assessore al cultura e al sport Leonardo Fiorica. Con questo voglio rinnovare un invito esteso a tutti coloro che vorranno venire per giorno 27 agosto nella zona Bella Vista, Scala dei Turchi e Real Monte ed ringrazio ancora voi tutti per questa iniziativa e la partecipazione che avrete.